Il derby, quello vero, è sempre stato con il Siena, fin dai tempi dei Guelfi e dei Ghibellini e delle sane scazzottate al vecchio Stadio Mancini, oppure al Rastrello. Nella terra dei comuni, nella Toscana dei Campanili, due città così poca distanza come Arezzo e Siena non potevano andare d'amore e d'accordo. E di conseguenza le partite tra Amaranto e Bianconeri sono sempre state all'ultimo sangue. Partite da non perdere sugli spalti, con il grande spettacolo di colore e di tifo. Partite da non perdere sul campo per non compromettere l'onore e il blasone. Una rivalità che nel corso degli anni non ha mai smarrito il fascino corrosivo del contrasto e della competizione, trasportando anche in politica i fumi di un antagonismo che si perde nella notte dei tempi. È per questo che l'ipotesi di creare una provincia unica qualche anno fa scatenò le proteste del popolo aretino. Mai con Siena fu lo slogan più gettonato, alimentato da un sentimento popolare così forte, che arrivò fino nelle stanze del potere, annaquando un progetto amministrativo che evaporò nel breve volgere di qualche mese. Tornando al calcio, c'è un passato recente fatto di finanze e bilanci milionari che ha portato Siena in Serie A. L'era Monte dei Paschi è però tramontata all'improvviso, lasciando macerie e una ricostruzione cominciata un anno fa dalla Serie D. Arezzo, a proposito di sostegni economici, è sempre stata una piazza che ha dovuto scontrarsi con un tetto invisibile e la Serie A non l'ha vista mai. Tra i due comuni c'è concorrenza anche quando i protagonisti sono i cavalli. Piazza del Campo e Piazza Vasari rappresentano due moti d'orgoglio e di rivendicazione culturale, il segno di una contrapposizione che ci spiega bene perché domenica perdere dall'una e dall'altra parte farebbe più male del solito.